Il TCG di One Piece non starà correndo troppo? Per chi inizia sarà difficile giostrarsi tra gli innumerevoli set e prodotti satellite pubblicati ed in previsione per il futuro? E che strategie si potranno utilizzare per restare al passo anche se si sta salpando in questo momento dal porto verso la rotta maggiore? Nel video di oggi troverete la risposta a queste domande. Signori, bentornati sul canale con il nostro consueto appuntamento settimanale. Dalla Bandai ogni giorno vengono pubblicate novità che portano gli appassionati del gioco a tema piratesco a testare nuove liste atte a modificare la tier, vestendo i panni dei nuovi leader che giorno dopo giorno arricchiscono il già vasto settore che li vede i protagonisti. Ma con tutti questi articoli in programma, aggiungendo i già pubblicati, non si rischia che si vada a saturare un mercato interno vietando ai nuovi aspiranti re dei pirati di avvicinarsi al gioco? La risposta potrebbe essere scontata. Sì, alzando le barriere ovviamente l'accesso vedrebbe facilitati i veterani danneggiando i nuovi, ma ci sono da prendere in considerazione alcuni aspetti importanti che sono sicuro andranno a favore proprio di quest'ultima categoria di appassionati. Oltre a questi aspetti che andremo ad esaminare nel video odierno vi fornirò i miei personali punti di vista. Due, per la precisione, che potranno tornare utili a tutti coloro che vorranno assaggiare le dinamiche di questo meraviglioso TCG senza provare il peso dei set passati, il più delle volte troppo costosi per essere recuperati. Signori, dalle statistiche di YouTube ho notato che in media il 77% di chi guarda i miei video non è ancora iscritto al canale. Pensate che se solo la metà decidesse di supportare il progetto si raggiungerebbero i 10.000 iscritti in pochissimo tempo, perciò datemi una mano, se ancora non siete iscritti basta un clic, per voi è un semplice gesto, ma per me è di grande aiuto. Grazie per il supporto, torniamo al video. Ed ora scopriamo assieme quale sarà la situazione attuale per tutti coloro che vorranno iniziare a navigare nel TCG di One Piece. Andiamo a dargli un'occhiata. Troppi prodotti, non gli si sta più dietro. Questa è di solito l'esclamazione che i nuovi giocatori mi rivolgono personalmente, lamentandosi dei costi di reperibilità delle carte, estremamente alti, e dei numerosi prodotti in arrivo dal Giappone che, qui in Italia, dati diversi problemi alla distribuzione, arriveranno col contagocce, rendendoli introvabili ancora prima che tocchino un magazzino di negozio. Ma ci sono delle novità in arrivo, che con i due punti in più che vi fornirò, consentiranno anche ai pirati in erba di iniziare a navigare tra le profonde acque dell'oceano. Primo fattore da tenere a mente sarà la presenza delle ristampe. Ci è stato detto che diversi set tra i primi che sono comparsi verranno introdotti nuovamente in mercato, assieme agli starter originali, con conseguente facilità di reperibilità delle carte stable per i mazzi come il viola, con il supporto delle Queen e i Kaido, ed il rosso attraverso l'utilizzo di event vari come Garpoint o i Luffy imbloccabili, già ristampati però e dati in premio partecipazione ai giocatori presenti nei diversi tornei organizzati in giro per il mondo. Secondo fattore, che è anche il primo dei miei consigli, è il seguente. Per ogni set a partire dal quarto in poi c'è stata una sorta di tematico che aveva nel deck quasi la totalità di carte provenienti dal set stesso. Viedasi Rebecca in Kingdom of Intrigue, Belobetti per Awaking of New Era e Reiju per l'attuale Wings of Captain. Ebbene, questi deck saranno, al momento della pubblicazione del set, molto facili da montare ed economici, e come per le bellezze rivoluzionaria e di casa Mismock, anche piuttosto competitive se montate nel migliore dei modi e testate fino alla noia. Quindi per un nuovo appassionato di certo i tematici potranno essere un validissimo punto di accesso alle dinamiche del gioco, e non nascondo il pensiero che questa scelta sia stata fatta appositamente dalla casa madre per avvicinare quanti più giocatori possibili al TCG basato sull'opera del maestro Oda. Ma c'è un ma! Come la mettiamo con l'avanzamento dei set? Ad espansione nuova a volte corrisponde anche variazione del meta, ed è qui che arriva il terzo fattore che è anche il secondo suggerimento. A nuovo capitolo probabilmente appartiene anche un nuovo tematico, e quindi quello che dovrete fare sarà venderlo in blocco, quello vecchio ovviamente, per impiegare il ricavato nella costruzione del nuovo archetipo che vi appassionerà, restando sempre al passo con l'avanzare delle novità, spendendo poco. Poi magari durante i mesi tra una pubblicazione e l'altra avrete anche preso parte a qualche evento organizzato, piazzandovi in top o perché no portandovi a casa il primo premio, accumulando carte che poco alla volta sono entrato a far parte della vostra collezione personale, pronta per essere impiegata nella costruzione di nuovi mazzi più ricercati. E quindi tra ristampe e questi due piccoli suggerimenti che potranno fornirvi un quadro meno critico della situazione, comprenderete ben presto che, a dire la verità, più si andrà avanti e meno le barriere di ingresso risulteranno alte, consentendo ad ogni curioso di stare le vele con l'intenzione di fare rotta verso il grande blu. E voi, come avete approcciato inizialmente il GCC che vede protagonista Luffy e compagni? Come sempre fatemelo sapere nei commenti. Mi auguro che questo video sia stato di vostro gradimento, prima di salutarci vi invito a cliccare qui a sinistra se vorrete scoprire altri contenuti interessanti legati al mondo dei TCG. Vi ringrazio di essere stati in mia compagnia, noi ci vediamo al prossimo video!